Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. In questo video parlo di Serie A, la partita che ho scelto di seguire naturalmente Lecce contro Juventus. Come sapete sto seguendo la stagione in Serie A del Lecce, squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie B che è il normale focus del canale. Il titolo di questo video e di questa partita credo sia Amarezza. Amarezza perché il Lecce ha perso per 1-0, ha perso contro una Juve minore, una Juve che ha giocato una partita di rara mediocrità nel corso di un primo tempo che è stato bruttissimo da un punto di vista estetico e giocato in una maniera imbarazzante della squadra di Allegri. Devo dire poi che il mister della Juve è stato molto bravo nelle sostituzioni a togliere McKennie, inserire Fagioli. Fagioli ha cambiato la partita con la sua prestazione e alla fine l'ha anche decisa con un bel gol al 71esimo minuto con il quale la Juve è nata in vantaggio e poi ha tenuto il vantaggio fino alla fine. L'amarezza però deriva dal fatto 1 della sconfitta, 2 il palo colpito da Juhlman all'89esimo minuto in quello che è stato l'unico tiro del Lecce verso la porta. Di fatto non nello specchio perché la statistica ufficiale ovviamente dice 0 a 5 per i tiri in porta. Zesni è stato inoperoso, un'altra conclusione dice André, l'unica del Lecce. L'amarezza deriva dal fatto che, d'accordo tutto, Lecce rispetto alla partita col Bologna, trovo abbia fatto comunque un compasso in avanti, non è stata una prestazione brutta come contro il Bologna, era diverso anche l'avversario però contro una Juve così in difficoltà, una Juve che ha schierato la formazione, che ha schierato in confusione tattica penso probabilmente sarebbe stata un'idea migliore provare ad aggredirla. In questo momento sono convintissimo del fatto che se il Lecce avesse giocato con la stessa grinta della prima giornata contro l'Inter questa partita l'avrebbe vinta di questo ne sono assolutamente sicuro. Trovo una squadra che per quanto oggi, da un punto di vista dell'impegno ci sia poco da criticare o da lamentarsi perché penso la squadra rispetto al nulla e a quella brutta prestazione anonima contro il Bologna, oggi la squadra ci sia stata e abbia giocato comunque con grinta, con volontà però il problema rimane questa scelta di arroccarsi in difesa e di essere sostanzialmente troppo poco pericolosi in avanti. Credo sia una scelta un po' autolesionistica e credo che sia una scelta non vincente in questo momento. Certo c'è un dato molto interessante il Lecce in questo momento è 17esimo con 8 punti, ha realizzato in 12 giornate solo 9 gol e questo lo sapevamo fin dall'inizio mancando una punta di peso, mancando la capacità anche forse un qualche creatore di gioco se c'è tua strefezza è difficile segnare però ci sono solo 15 gol subiti in 12 giornate e nessuna delle squadre coinvolte nella zona della retrocessione ha subito così pochi gol. Quindi la solidità difensiva tutto sommato c'è anche oggi, tra l'altro nel primo tempo c'è stata questa pochezza della Juve però il Lecce si era difeso molto bene. Poi nel secondo tempo Pongra ci ha perso completamente il controllo della gara, ha commesso tanti errori anche banali, c'è stato questo passare la palla all'indietro troppe volte, rischiare palloni, c'è stato un retropassaggio di gallo assurdo dove Falcone ha dovuto fare un miracolo per riuscire a rinviare. Ecco, in questo trovo che davvero il rinunciare così tanto a giocare sia troppo controproducente e oggi non si può dire che di fronte ci fosse un avversario che prestasse, che aggredisse, che impedisse di giocare. Eppure una Juve che giocava con Gatti come difensore centrale, una Juve che giocava con Miretti, che giocava con un costice orribile, un McKennie nel primo tempo disastroso su Le, i giovani che per forza devono essere oramai il futuro di questa squadra ora così in difficoltà e Lecce invece ha scelto di aspettare, attendere e questa cosa la trovo veramente troppo poco positiva. Mi piacerebbe, adesso non dico di arrivare al Pescara di Galeone che le partite con le grandi le perdeva 6-0, 8-2 quello che è e poi vinceva gli scontri diretti, però forse a un certo momento è meglio prendere e giocarsi le partite e vedere quello che succede piuttosto che decidere sostanzialmente di non giocarle. Poi, ripeto, non trovo solo cose negative in questa prestazione perché per il resto è partito Udea in titolare che aveva giocato molto bene a Bologna, quindi questa è una scelta credo indovinata. Gonzales lo trovo molto incalando rispetto all'inizio del campionato, forse a troppi minuti in questo momento, però è anche vero che lì nel centrocampo tante alternative, ma se togliamo Hulman, Blin, Blin mi è piaciuto molto e non l'avrei sostituito sinceramente, anche se poi ha fatto fatica magari a creare gioco, ma in interdizione sicuramente ha fatto bene. Però mi rimane quello, mi rimane un po' un amaro in bocca perché questa credo fosse una partita nella quale non solo fare un punto, ma provare a farne anche tre, perché la Juve, ragazzi, veramente ha lasciato pochissime immagini di sé, meglio davvero nel secondo tempo, quando è entrato Fagioli, quando è entrato King, quando è entrato Hilling, devo dire che Allegri è stato molto bravo con le sostituzioni, i cambi invece del Lecce hanno fornito poco apporto, anche Banda oggi si è fatto vedere troppo poco e Haskelsen ancora ha dimostrato di essere piuttosto fuori forma in questo momento. C'è stato il solito angolo, anche sospetto Moviola-Var quando Miretti al quindicesimo ha fatto un brutto intervento da dietro, credo su Uden, è stato ammonito, anche qui ragazzi, io penso questo fosse un intervento meno grave di quello per il quale Juleman è stato espulso a Roma. Poi sono convinto che il giallo sia la scelta giusta comunque, però è sempre un po' una confusione, sempre un po' un terno all'otto questa scelta del calcio moderno. I quattro gialli della Juve in 25 minuti sono la prova che forse attaccando questa Juve balbettante qualcosa in più sarebbe potuto arrivare, è per questo che dico un po' di amarezza perché credo sia una partita che non sia stata affrontata, cioè fino in fondo, mi lascia quella sensazione di non aver provato realmente fino in fondo a testare e a misurare le proprie possibilità contro un avversario così in difficoltà. Ora è un'altra sconfitta, il Lecce non vince dalla partita con la Salernitana, è un momento delicato, un momento nel quale cercare di mettersi insieme e lavorare a testa bassa per venire fuori da questo momento nel quale la squadra è tignosa e combattiva bene, però fatica troppo a costruire e soprattutto poi i risultati non arrivano e questo rende tutto un po' più difficile. Certo nei rivali della salvezza, Verona, Cremonese, Sampdoria, Spezia non sono irresistibili, io ci credo, continuo a crederci, continuo a credere in questo gruppo che possa fare ancora bene e portare a casa anche l'obiettivo della salvezza che credo sia comunque alla portata, però vedo qualcosa che mi sembra si stia un po' troppo spegnendo e mi piacerebbe vedere più grinta, più carica da parte dei ragazzi per le prossime partite. Pagelle, Falcone 6,5, uno dei migliori sicuro nel secondo tempo quando la Juve ha alzato un po' più la pressione. 6,5 a Gendré che non mi è dispiaciuto per niente, trovo abbia spinto piuttosto bene, una prestazione ordinata. 5 a Pongracic, bene nel primo tempo, davvero incredibile vedere un giocatore dell'esperienza o comunque del pedigree internazionale come lui fare così fatica nella ripresa. 6 a Baschirotto, 5,5 a Gallo un po' anonimo, 5 a Gonzales come detto che trovo in calo di forma, 6,5 a Hulman, peccato il palo finalmente poteva arrivare questo primo gol, 6 a Blin che come detto non mi stava dispiacendo, 5,5 a Oden che da titolare in questa partita ha fatto fatica a mettersi in moto, 5,5 a Sise, povero e anche totalmente solo, lanci lunghi da inseguire, fatica, molta fatica però non credo sia sufficiente la sua prestazione e 5,5 a Ancastrefezza che mi sembra un po' come troppo sacrificato e non riesce a tirar fuori anche lui le creazioni che potrebbe avere. Dei subentrati, non mi è piaciuto come detto Askinson e anche Banda, così così Colombo, solito Colombo, insomma purtroppo poco non pervenuto. 5,5 a Baroni, per la Juve senza voto Zesni, 6 a Quadrado, 6,5 a Gatti, 6,5 a Danilo, 6 a Alexandro, 5 a Sule, 4,5 a McKennie, 6 a Rabiot, 5 a Kostic, 5 a Miretti e 5,5 a Milik, 6,5 a Dallegri per le sostituzioni, 7,5 a Fagioli, 7 per la prestazione e mezzo punto in più per il gol, positivi anche Iling e Keen. 5 a Kiffi, 29 falli, 8 cartellini, perché non ha fatto battere il secondo calcio d'angolo, boh, i misteri del calcio moderno. Ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate, mi interessa tantissimo sentire il feeling vostro con questo momento del Lecce. Grazie a tutti, iscrivetevi al canale, vi aspetto, ciao a tutti e un bacio da Loxx, ciao!